Ci andiamo a collegare con Agnese Di Biasi, ciao Agnese! Ciao, buonasera! Buonasera, come va? Benvenuta in diretta Agnese! Ciao, tutto bene? Come va la vostra quarantena? Scusami Agnese, io voglio ricordare al nostro pubblico che ci sta seguendo su Telesalerno che Agnese Di Biasi è un insegnante di ballo della città di Agropoli della Dirty Dancing School Agropoli, sì, sono qua in quarantena Allora, vi spiego la mia quarantena in palestra perché io abito sopra quindi perciò mi posso permettere di stare in palestra ma voglio raccomandare a tutti gli amici spettatori di stare a casa a meno che non ci siano delle esigenze valide per uscire tipo lavoro oppure cose fondamentali Esatto, esatto Tutto bene voi? Brava, sì, tutto bene Bene, ti volevamo ringraziare perché tu hai avuto questa splendida idea insomma di dare il tuo contributo personale per tirare un po' su il morale alle persone che sono un po' diciamo tutte, come dire, demoralizzate dalla situazione che stanno vivendo Eh no, no, infatti era ragazzi era un paio di giorni che non riuscivo proprio a sopportare l'idea di vedere tutti questi messaggi anche sul web, tristi, demoralizzanti comunque non è semplice cambiare totalmente vita alla fine stiamo comunque vivendo un periodo mai vissuto finora quindi sembriamo sempre di vivere in un film non sembra la realtà e allora ho pensato, visto che noi maestri siamo siamo comunque abituati a fare lezioni, a correre davanti, dietro allora ho pensato di fare qualcosa per farvi divertire e rilassare e infatti voglio ricordarvi anche l'appuntamento domani mattina alle 10.30 faremo una lezione di tonificazione e tonificazione addominali in diretta, giusto? in diretta? come possono fare per seguirti? Agnese, dici come possono fare per seguirti? mi senti? sì? allora basta che andate sul mio profilo Facebook scrivete Agnese Di Biasi io alle 10.30 in punto sarò in diretta noi ti ringraziamo, io ci sarò ovviamente e poi ragazzi alle 18 faremo un'altra lezione sempre di tonificazione quindi aerobica, tonificazione, rilassamento, addominali sarà molto strong in modo che scaricate bene tutti i nervi Agnese scusami mi senti? mi senti? allora vogliamo dire ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa come possono fare per seguire la tua pagina? allora l'importante è che scrivono su Facebook Agnese Di Biasi io ho il profilo pubblico no perché voglio dire tu ne hai tantissimi hai tantissimi profili su Facebook quindi dobbiamo indicare con l'esatto sì 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 Agnese Di Biasi quello là poi c'è una pagina però lo faccio sul mio profilo personale quindi su Agnese Di Biasi penso ce ne sia uno Agnese con cosa ci delizierai questa sera? come? vogliamo capire stasera con cosa ci delizzi che cosa ci farai? stasera vissi che sono due giorni che faccio tonificazione stasera con mio compagnolo, presento Enrico eccolo qua ciao buonasera buonasera come stai? per farvi rilassare un po' faremo qualche minuto di baciata poi prossimamente sempre online poi lo diremo man mano magari vi avviserò faremo anche dei corsi delle lezioni di baciata, salsa in modo che gli appassionati non smettano di ballare anche perché ragazzi ricordiamoci che il ballo aiuta il corpo ma soprattutto la mente in questo momento ne abbiamo bisogno e soprattutto voglio dire una cosa dobbiamo stare a casa ragazzi perché è fondamentale in questa situazione di emergenza prima lo capiamo e prima usciamo da questa situazione grande Agnese siamo pronti possiamo partire? siamo pronti possiamo partire? metto la musica ok metto la musica Agnese ti piace? un grande applauso Agnese ti piace? ti vede? un grande applauso Agnese ti piace se Grazie a tutti. 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 Rimaniamo forti, uniti e con uno spirito, diciamo, allegro, giovanile, anche se ci troviamo in questa situazione. Grazie a tutti. Soprattutto, ragazzi, soprattutto ce la faremo, però siamo a casa, noi siamo a casa. Grazie per il vostro messaggio, grazie mille per il vostro messaggio. Grazie per la collaborazione. E noi ringraziamo la scuola Dirty Dancing School di Agropoli con Agnese Di Biasi.